Allora, Luigi Mundu è il direttore della scuola civica di musica, Simone Ottis è uno dei cocenti e adesso ci fanno sentire qualcosa di bello. Buonasera, Simone Renzo, questa sera una brevissima fantasia di temi latinoamericani, però prima iniziale ci teneremo a scusarmi col gentile pubblico per i problemi e i convenienti audio che sono stati determinati dall'interferenza del collegamento skype sulla linea audio, ovviamente il Comunicato di Sardegna è in caso a Maximo, sono esagerati da qualunque responsabilità, ci dispiace per l'inconveniente, tutto, a volte la tecnologia, sono soddisfatti, i genti che dovrebbero essere qui stasera, potete fare la dieta alle 19 prece e ci ha promesso che dopo viene la sua missione alle 20 forse riusciamo a fare il collegamento, però lo facciamo alla fine, quando siamo sicuri che poi non possa interferire più maleticamente sulla strumentazione audio, quindi scusate ovviamente a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi. Grazie. 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 Grazie.